Nell'ambito del Festival del Cinema Città di Spello rassegna concorso le professioni del cinema, ieri presso il Teatro Subasio si è tenuta la conferenza Umbria Film Movie con la presentazione della Scuola Internazionale di Cinema. Un'interessante opportunità per i giovani Umbri e non solo, che attraverso la scuola potranno apprendere i mestieri legati al dietro le quinte del cinema, ma senza dei quali non si potrebbe realizzare nulla. Significativa è stata la proiezione del filmato legato alle professioni del cinema a cura del regista Marcello Vallone, che attraverso professionisti affermati nei diversi settori ha raccontato un mondo spesso sconosciuto e più, ovvero il ruolo del macchinista, del parrucchiere, del creatore di parrucche, dei cosiddetti effetti speciali, della sarta, del produttore, del creatore di gioielli, delle calzature, dell'attrezzeria scenica. Tutte professionalità stimate non solo nel cinema italiano ma anche estero. Presenti in teatro i docenti, tutti ampiamente qualificati della scuola di alta professione, che hanno presentato alcuni decorsi, dalla sceneggiatura, alla regia, alla fotografia, recitazione, montaggio, scenografia, fonia, costumi, effetti speciali e molti altri, che hanno ricordato quanto questo mestiere, oltre a necessitare di tecnica e preparazione, ha bisogno di una grande passione e spirito di sacrificio e che richiede collaborazione tra i vari reparti. Tutti concordi nel voler dare alla scuola un risvolto pratico con esperienze dirette sul set e donare ai propri studenti soprattutto l'amore per i mestieri legati alle professionalità del cinema. Le iscrizioni partiranno il 15 marzo, mentre i corsi inizieranno i primi di ottobre. Per maggiori informazioni visitare il sito umbriafilmovie.com. Oggi Umbria Film Movie, che è la nostra associazione che si è creata circa un anno, è un'associazione che si occupa di fornire service alle produzioni cinematografiche, di dare supporto ai lavori cinematografici, presenta il progetto della Scuola di Cinema Umbra. Noi abbiamo creato per l'Umbria l'opportunità di formare maestranze qua. La nostra base, il nostro centro studi sarà il centro studi di Orvieto, dove abbiamo anche la base come Umbria Film.